salve dalle macchie delle coserie questo piccolo letto di terra coltivato a broccolo cavolfiore si presenta sempre vegeto come vedete anche da quella parte non scherzo quello del cavolo anzi quello il cavolfiore e poi c'è ancora il broccolo come vedete già qualche cosa sta crescento queste sono come si vedete le ciuffe del broccolo anche questa qua vede come interessante adesso quelle che sono più cresciute vedete ci ne sono anche qua qualcuna inutile portare troppo in avanti si intuiscono anche qua vedete come bella questa noi taglieremo da questa parte con un coltello e lasceremo il resto chiaramente poi usciranno fuori quelle che noi chiamiamo mugnoli che sono anche molto interessanti se non facessimo questo taglio i mugnoli non potevano nascere e questo si intuirebbe quindi quelle che sono già abbastanza cresciute abbastanza ancora tenere vanno comunque tagliate e si possono già utilizzare poi fra qualche settimana anche prima usciranno i mugnoli che sono anche abbastanza interessanti per fare tante cose si trovano delle bellissime cicorie in giro vedete fino a giù